Eder. Mech. Pallister. Dopo l'intervista rilasciata a chi l'ha visto, Salvatore Parolisi ha perso i permessi che gli erano stati concessi in precedenza. L'ex caporal maggiore dell'esercito, condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea, ha parlato di una condanna ingiusta e di come non ci fossero prove per il suo ergastolo. Di conseguenza, il Tribunale di Sorveglianza ha deciso di revocare i 15 permessi rimanenti che avrebbe potuto usufruire fino a ottobre. Le parole di Parolisi hanno dimostrato che non ha ancora fatto il lavoro introspettivo necessario per riabilitarsi. Perciò il Tribunale ha revocato anche i premi concessi ad aprile per stimolare una approfondita riflessione del condannato. La famiglia di Melania Rea ha espresso la propria indignazione per le dichiarazioni dell'uomo. Sottolineando come un assassino capace di uccidere la moglie non può essere equiparato a un delinquente comune. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale. Eder Metallica Eder Metallica Eder Metallica